Gesù e Maria state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare io vi benedica e la Santa Vergine vi protegge carissimi amici bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al mistero di Giuda questa è la venticinquesima puntata oggi vedremo di nuovo un volto di Giuda apparentemente migliore in uno dei momenti in cui apparivano emergevano alcuni tratti della sua personalità un pochino particolare che gli facevano fare dei chiamiamoli ritorni di fiamma che però erano quasi tutti fuochi di paglia come avremmo modo di vedere perché il grosso problema di Giuda e questo ricordiamocelo bene era la mancanza di una cosa fondamentale per la vita di fede che si chiama la buona volontà pace in terra agli uomini di buona volontà senza la nostra buona volontà Dio non ci può fare nulla o meglio se volesse potrebbe scavalcarla e violentarla ma sappiamo con certezza che questa è una cosa che non farà mai e questo dobbiamo esserne consapevoli bene fatto questo breve preambolo dato che il capitolo di questa sera sarà molto lungo io comincerei la lettura commentata se mi vedete ogni tanto che purtroppo c'è un problema che faccio presente per chi segue la diretta su youtube che purtroppo nelle dirette streaming non è possibile impedire a youtube di mandare i messaggi durante la catechesi quindi che interromperebbero la catechesi si può soltanto inserire di programmazione della diretta selezionare la spunta del cioè del del soft quindi per rendere questa operazione il meno invasiva possibile ma non la si può eliminare del tutto grazie a dio però ogni tanto prima che lo mandino compare sotto lo schermo voi non lo vedete ma io si sta per andare in onda l'annuncio quindi io devo stare sempre con un occhio vigile sullo schermo perché ho la possibilità di dirgli salta l'annuncio quindi in questo caso non ci sarà nessuna interruzione che è una cosa inaccettabile per una catechesi tenete anche presente che le dirette finiscono e poi diventano fruibili soltanto agli abbonati ma di tutte queste cose in contemporanea la diretta io sto video registrando e audio registrando perché la versione ovviamente questa è certamente ripulita perché non si vede assolutamente nulla né nell'audio né nel video sarà tempo massimo 24 ore disponibile per tutti come tutto il mio materiale che è completamente gratuito ecco i cosiddetti vantaggi degli abbonati di youtube sono cose che non toccano assolutamente in nulla la fruibilità universale dei miei contenuti apostolici sono dei piccoli strumenti che vengono dati a coloro che liberamente fanno questa cosa generalmente a scopo di sostegno dell'apostolato ma questo non intacca nemmeno di un minimo la fruibilità ovviamente del mio materiale a tutti bene dette queste cose andiamo al paragrafo di oggi che si intitola difende la donna velata e la rispetta questa è la famosa velata dell'acqua speciosa tanto per capirci e di cui poi nel corso dell'opera si conoscerà il nome che è Aglae o Aglae non ho mai capito come si pronuncia una ex grande peccatrice che appunto tutta quanta ammantata ascoltava Gesù e poi sarebbe andata a piangere prima da Maria Santissima e poi da Gesù in persona su questa figura come dire c'erano molte curiosaggini mi si perdoni il termine un po' neologistico in giro da parte di molti il contatto apostolico con questa donna era Sant'Andrea apostolo e Gesù come già vi ho visto nelle puntate precedenti non voleva assolutamente che questa fosse turbata e che si sapesse nulla di lui direi scusate comincio la lettura la misteriosa donna ammantellata e velata ha ascoltato tutti i discorsi di Gesù nella piana dell'acqua speciosa senza farsi mai conoscere è presente anche in una giornata piovosa e tetra quando Gesù affronta il tema non fornicate e termina il suo discorso con una domanda è un'esortazione eccolo chi piange nessuno voi dite nessuno sta parlando Gesù eppure l'anima mia va incontro ad un'altra anima che piange perché le va incontro per lanciarle l'anatema perché meretrice no perché mi fa pietà l'anima sua tutto in me repelle per il suo corpo per il suo corpo sozzo sudato nella fatica lasciva ma la sua anima o padre o padre anche per quest'anima io ho preso carne e ti ho lasciato il cielo per essere il redentore suo e di tante sue anime solelle perché devono raccogliere questa pecora errante e portarla all'ovile mondarla unita al greggio darle pascoli è un amore che sia perfetto come solo il mio può essere così diverso da quelli che ebbero fin qui per lei nome di amore e non erano che odi così pietoso completo soave che la più non rimpianga il tempo passato o lo rimpianga solo per dire troppi giorni ho perduto lungi da te eterna bellezza chi mi rende il tempo perduto come gustare nel poco che mi resta quanto avrei gustato se fossi stata sempre pura eppure non piangere anima calpestata da tutta la libidine del mondo ascolta sei un cencio lurido ma puoi tornare fiore sei un letamaio ma puoi divenire aiuola sei animale immondo ma puoi tornare angelo un giorno lo fosti danzavi sui prati fioriti rosa fra le rose fresca come esse olezzante di verginità cantavi serena le tue canzoni di bambina e poi correvi dalla madre dal padre e dicevi loro voi siete i miei amori e l'invisibile custode che ogni creatura al fianco sorrideva della tua anima bianco azzurra e poi perché perché hai strappato le tue ali di piccolo innocente perché hai calpestato un cuore di padre e di madre per correre da altri cuori insicuri perché hai piegato la voce pura a menzognere frasi di passione perché hai infranto lo stero della rosa e violato te stessa pentiti figlia di Dio il pentimento rinnova il pentimento purifica il pentimento sublima l'uomo non ti può perdonare neppure tuo padre potrebbe più ma Dio può perché la bontà di Dio non ha paragone con la bontà umana e la sua misericordia è infinitamente più grande della umana miseria onora te stesso te stessa scusate rendendo con una vita onesta onorevole la tua anima giustificati presso il Dio non peccando più contro la tua anima fatti un nome nuovo presso Dio è quello che vale sei il vizio diventa l'onestà diventa diventa il sacrificio diventa la martire del tuo pentimento sapesti bene martirizzare il tuo cuore per far godere la carne ora sappi martirizzare la carne per dare un'eterna pace al tuo cuore voi andate tutti ognuno col suo peso e col suo pensiero e meditate Dio tutti attende e non rigetta nessuno di quelli che si pentono il signore vi dia la sua luce per conoscere la vostra anima andate ora questa è la parte finale del discorso che chiaramente Gesù sta rivolgendo in forma anonima a questa donna velata perché questa era stata una grandissima fornicatrice ma proprio grandissima una lussuriosa di prima categoria abbiamo sentito cosa pensa Gesù di questo peccato e come sa unire la verità alla misericordia dopo le frasi di contrasto se è un cencio lurido sì i lussuriosi sono cenci luridi ma possono tornare fiori? certo se lo vogliono come col pentimento pentimento non soltanto del cuore ma pentimento sappi martirizzare la carne perché i peccati impuri si riparano e si espiano con la mortificazione corporale questo bisogna metterselo bene in testa se è animale immondo sì animale immondo la libidine e la lussuria è una degradazione dell'essere umano ad un grado di essere inferiore che è quello animale ma puoi tornare angelo gli angeli non conoscono queste cose non conoscono la lussuria e e qui faccio un rimando al ciclo di catechesi il peccato originale è l'origine di ogni male questo non avrebbe dovuto conoscere neanche l'uomo la libidine la sensualità la sessualità in tutte le sue forme non sarebbe dovuta essere tra gli uomini quello è stato il peccato originale e quello ne è la conseguenza perpetua ovviamente queste non sono affermazioni mie in quel ciclo di catechesi si vede come la dottrina di fiordi padri della chiesa è mica di uno solo saranno almeno una ventina venticinquina afferma che lo stato pensato da dio per l'uomo e che sarebbe dovuto essere mantenuto a prescindere dalla problematica di in che cosa consistette esattamente il peccato originale era quello della verginità e non può essere un caso che gesù è vergine la madonna è vergine san giuseppe è vergine l'apostolo prediletto di gesù è vergine la chiesa ha sempre insegnato che la verginità è una condizione di oggettiva eccellenza sempre da preferire fino al punto di poter essere possibili e ci sono stati nel corso della storia addirittura i matrimoni bianchi e non soltanto quelli tra un bartolo lungo e la contestina mariana di fusco che furono invitati dalla noia tredicesima a sposarsi perché stando sempre insieme purtroppo la gente malignava perché la gente non riesce a concepire uno stare vicino di un uomo rispetto a una donna senza malizia cosa che è perfettamente possibile cosa che è successa realmente in tanti santi in tante sante solo che hanno dovuto avere quelle accortezze di difenderlo dalla malizia dei peccatori perché San Francesco e Santa Chiara Santa Teresa Davide e San Giovanni della Croce San Francesco di Sal e Santa Giovanna di Chantal San Vincenzo dei Paoli e Santa Luisa dei Marignac San Luigi Maria e Santa no quella che stava con San Francesco e San Francesco di Paolo non mi ricordo come si chiamava perché Santa Luisa di Marignac era l'amica diciamo così tra virgolette perché non si sa neanche come nominarle di San Luigi Marignac da Montfort San Vincenzo di Paolo era vicino che brutta malattia la vecchiaia ma l'aveva anche lei una la fondatrice delle dame di San Vincenzo tra l'altro quindi può potersi che mi verrà in mente in corso di di trasmissione e Gesù stesso quindi la condizione angelica la virginità è la condizione la vita virginale si chiama anche vita angelica perché gli angeli non conoscono queste cose non possono conoscere perché non hanno materia noi non avremmo dovuto conoscerle perché non siamo solo materia come gli animali ma abbiamo l'anima spirituale l'anima spirituale non può essere coinvolta in cose che che come dire coinvolgono talmente tanto San Tommaso da qui uno spiega che durante l'amplesso sessuale si perde l'uso della ragione la totalità della persona è completamente asservita a quel piacere brutale e questa è una cosa che non non dovrebbe essere possibile non sarebbe dovuta essere possibile per gli esseri umani purtroppo dopo il peccato originale è inevitabile e soprattutto è inevitabile che la specie umana si propaghi se non si compie quell'atto ma per usare le parole di Gesù dal principio non fu così per approfondimenti questo ciclo di catechesi che ho citato ancora un giorno lo fosti danzavi sui prati fioriti sentite rosa fra le rose olezzante di verginità olezzante di verginità il profumo dei vergini e poi l'esaltazione al pentimento serio pentimento pentiti figlia di Dio il pentimento rinnova sublima purifica e poi l'esaltazione della divina misericordia vedete come si procede la condanna netta decisa cruda se vogliamo anche del peccato la speranza della conversione il mezzo per raggiungerla il pentimento e la causa la misericordia di Dio la vera misericordia di Dio e dice Gesù il Signore Dio tutti attende e non rigetta nessuno di quelli che si pentono nessuno ma di quelli che si pentono attenzione oggi alla falsa dottrina della misericordia che lascia intendere cosa falsa che Dio perdona a prescindere nono Dio non perdona niente a prescindere Dio perdona chi è pentito il pentimento apre le porte della misericordia divina anche per peccati gravissimi anche per peccati da cui non saremmo perdonati dagli affetti più cari se tuo padre non ti può perdonare Dio sì perché la divina misericordia è infinitamente più grande dell'umana miseria ma è tutto il complesso del discorso che va sempre tenuto insieme perché attenzione che la falsa dottrina della misericordia riempie l'inferno riempie rimaniamo sempre ancorati nella sana dottrina cattolica e nella vera dottrina della misericordia che è esattamente quella che ha descritto il Signore in queste pochissime battute proseguo la lettura molti vanno via verso il paese altri entrano nello stanzone Gesù avversi malati di Risano un gruppo di uomini parlotte in un angolo divisi fra diverse tendenze gesticolano e si accalorano alcuni sono accusatori di Gesù altri difensori altri ancora esortano questi e quelli a più maturo giudizio infine i più accaniti forse perché pochi rispetto agli altri due gruppi prendono una via di mezzo vanno da Pietro che insieme a Simone trasporta le barelle ormai inutili di tre miracolati e lo assalgono prepotenti dentro lo stanzone mutato in foresteria dei pellerini dicono uomo di Galilea ascolta Pietro si volta e li guarda come bestie rare non parla ma il suo viso è un poema Simone getta solo un'occhiata ai cinque energumini e poi esce lasciando tutti in asso uno dei cinque riprende sentite bene io sono Samuele lo scriba costrui all'altro scriba Sadoc e questo è il giudeo Eleazzaro molto noto e potente e questo è l'illustre Graziano Callascebone questo è infine Naum capisci Naum e il tono addirittura è enfatico questi cinque personaggi sono proprio la feccia durante il processo e la morte di Gesù hanno dato proprio il peggio di loro stessi Pietro fa un lieve inchino ad ogni nome ma l'ultimo resta a mezza via e dice con massima indifferenza non so mai sentito e non capisco niente Rozzo Pescatore sappi che è il fiduciario di Anna non conosco Anna ossia conosco molte donne di nome Anna ce n'è una fungaia anche a Cafarnao ma non so di che Anna costrui il fiduciario costrui a me si dice costui ma cosa vuoi che ti dica asino o uccello vedete Pietro che grazie quando andavo a scuola mi ha insegnato il maestro a dire costui parlando di un uomo e se non ho le traveggole tu sei un uomo l'uomo si dimena come fosse torturato da quelle parole l'altro il primo che ha parlato spiega Anna ma è anche il suo cero di Faifa ma Anna è il suo cero di Caifa aaa dice Pietro capito ebbene ebbene sappi che noi siamo sdegnati di che del tempo dice Pietro anche io è la terza volta che mi cambio veste e ora non ho più nulla di asciutto ma non fare lo stolto stolto è verità se non siete sdegnati del tempo di che allora dei romani del tuo maestro del falso profeta ehi caro Samuele bada che mi sveglio e sono come il lago dalla bonaccia alla tempesta non ci tengo che un attimo guarda come parli sono entrati anche i figli di Zebedeo e di Alfeo con loro gli Scariota e Simone e si stringono a Pietro che alza sempre più la voce tu non toccherai con le tue mani plebee i grandi di Sionne oh risponde Pietro che bei signorini e voi non toccatemi il maestro perché altrimenti volate nel pozzo subito a purificarvi per davvero di dentro e di fuori faccio osservare ai dotti del tempio che la casa è dominio privato dice pacato Simone e l'Iscariota rincara e che il maestro io ne sono mallevadore ha sempre avuto per la casa altrui prima fra tutte la casa del Signore il massimo rispetto sia usato uguale verso la sua tu taci verme suddolo dicono a Giuda e Scariota suddolo in quanto mi avete fatto schifo e sono venuto dove schifo non è e voglia Dio che essere stato con voi non mi abbia corrotto fino nel fondo breve che volete chiede asciutto Giacomo di Alfeo e tu chi sei? rispondono arroganti questi sono Giacomo di Alfeo e Alfeo di Giacobbe e Giacobbe di Matan e Matan di Eleazar e se vuoi ti dico tutta l'ascendenza fino al re Davide da cui vengo e cugino sono del Messia per cui ti prego di parlare con me di stirpe reale e di razza giudea se alla tua alterigia è schifo parlare con un estuo israelita che conosce Dio meglio di Gamaliele e Caifa andiamo parla il tuo maestro e parente si fa seguire dalle prostitute quella velata è una di esse l'ho vista mentre vendeva dell'oro e l'ho riconosciuta è l'amante fuggita a Shammai questo lo disonora chi? a Shammai il rabbino? allora deve essere una vecchia carcassa fuori pericolo perciò mutteggia di Scariota taci folle a Shammai di Elchi il prediletto di Erode toto segno che non lo predilige più lei il prediletto è lei che deve andare in letto con lui non te perché te la prendi allora? Giuda di Cariot è ironico al sommo uomo non pensi di disonorarti facendo la spia? chiede Giuda di Arfeo e non pensi che si disonora colui che si abbassa a peccare non colui che cerca di alzare il peccatore che disonore ne viene al mio maestro e fratello se egli parlando spinge la voce sino alle orecchie profanate dalla bava dei lussuriosi di Sionne la voce ha ha a trent'anni il tuo maestro e cugino e non è che più ipocrita degli altri e tu e voi tutti dormite sodo la notte impudente rettile fuori di chi o ti strozzo urla Pietro e a lui fanno ecco Giacomo e Giovanni mentre Simone si limita a dire vergogna la tua epocrisia è tanto grande che rigurgi dai trabocca e sbavi come un lumacone sul fiore puro esci e divieni uomo perché per ora non sei una bava ti riconosco Samuele sei sempre lo stesso cuore Dio ti perdoni ma va via dal mio cospetto ma mentre il Cariot con Giacomo di Alfeo tengono il bollente Pietro Giuda la lingua la lingua li ha fatti Dio per compiere opere sante il maledico li profane avvelisce facendo loro compiere opere malvagie io non sporcherò me stesso da un atto villano contro la tua canizie ma ti ricordo che i malvagi odiano un uomo integro e che lo stolto sfoga il suo malanimo senza neppur più riflettere che si tradisce chi vive nelle tenebre scambia per rettile il ramo fiorito ma chi vive nella luce vede le cose come sono le difende se denigrate per amore della giustizia noi viviamo nella luce siamo la generazione casta e bella dei figli della luce e il duce nostro è il santo che non conosce donna né peccato noi lui seguiamo e lo difendiamo dai suoi nemici per i quali come lui ci ha insegnato abbiamo non odio ma preghiera per i quali sì impara o vecchio da un giovane divenuto maturo perché la sapienza gli è maestro a non essere lesto nel parlare e buono a nulla nell'operare il bene vai e riporta chi ti ha mandato che non nella profanata casa che è sul monte Moria ma in questa povera dimora riposa Dio sulla sua gloria a Dio i cinque non osano ribattere se ne vanno i discepoli si consultano dirlo o non dirlo a Gesù che è ancora con i malati guariti dirlo è meglio così lo raggiungano lo chiamano Gesù sorride calmo e risponde vi ringrazio della difesa ma che ci volete fare ognuno dà ciò che ha però un poco ragione ce l'hanno gli occhi sono nella testa per vedere molti vedono lei è sempre lì fuori come un cane ti nuoce dicono in diversi lasciatela stare non sarà lei la pietra che mi colpirà sul capo e se lei si salva oh vale bene la pena di una critica per questa gioia tutto a fine su questa dolce risposta ecco invito a far notare perché purtroppo nel mio piccolo ne so qualcosa di queste cose le parole che Gesù dice dinanzi ai suoi estremi difensori li ringrazia ma dice che ci volete fare ognuno dà quello che ha e sono molto importanti sotto questo punto di vista le parole di Giuda di Keriot noi dobbiamo fare sempre molta attenzione a quello che si vede e ricordare il detto di Gesù la bocca parla della pienezza del cuore quegli esseri luridi e schifosi perché tali erano malignano e imputano a Gesù ciò che c'è dentro il loro cuore pensano che lui sia come loro insinuano voi la notte dormite lui fa tardi quindi chi lo sa che fa fino a una tarda Gesù non si scompone per niente non si scompone per niente dice anche una grande verità se questa si converte ma facessero pure tutto quanto alla commedia che vogliono non ci interessa ecco in questo mi sento di poter dire non c'è bisogno questo signore che dica io sante parole la conversione anche di una sola anima vale anche vale bene tutto quanto il fango che ti possano gettare addosso lo dico se tante volte ci fosse qualche confratello che per sbaglio ascoltasse queste cose che i confratelli non hanno bisogno di ascoltare me meglio che si mettono in ascolto dei santi e delle vite dei santi ma se qualcuno per sbaglio deve sentire queste cose se ti dovessero denigrare o infamare varie variamente sappi che la conversione di un animo peccatrice basta e avanza per compensare tutte le infamate e quindi si va avanti senza timore il capitolo continua il giorno seguente attanta la pioggia che nessun pellegrino viene ad ascoltare Gesù costretto con i discepoli a starsene chiuso nella cucina della casetta nella piana dell'acqua speciosa tu che sei esperto di tempo che ne dici durerà molto così chiede a Pietro Iscariota che è tutto cambiato da qualche giorno vedete i cambi di Giuda ora te lo so dire vado a fare l'astrologo dice Pietro e va alla porta e la socchiude un poco di più mettendo fuori il capo e una mano poi sentenzia vento basso e dal meridione caldo e caligine c'è poco da Pietro tace poi rientra piano e mette la porta a spiraglio e vi svircia che c'è? chiedono in tre o quattro ma Pietro facendo con la mano di tacere guarda poi dice con un sussurro c'è quella donna ha bevuto dell'acqua del pozzo e ha preso una fascina rimasta nella corte tutta bagnata non brucia certo se ne va le vado dietro voglio vedere è uscito cauto ma dove può stare per essere qui vicino sempre? chiede Tommaso ed essere qui con questo tempo dice Matteo in paese ci va certo perché anche ieri l'altro ci comprava del pane dice Bartolomeo ha una bella costanza stare così verata osserva Giacomo di Alfeo ho un grande motivo finisce Tommaso ma sarà proprio quella che diceva ieri quel giudeo? chiede Giovanni sono sempre così falsi e Gesù sta sempre zitto come fosse sordo tutti lo guardano certi che lui sa ma lui starà volando con un coltello tagliente intorno ad un pezzo di legno dolce che piano piano si muta in un comodo forchettore forchettone per estrarre le verdure dall'acqua bollente e quando ha finito offre il suo lavoro a Tommaso che si è dedicato proprio tutto alla cucina sei proprio bravo maestro ma ce lo dici chi è? un'anima risponde Gesù per me siete tutti anime null'altro uomini donne vecchi bambini anime 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 candide i pargoli anime azzurre i fanciulli anime rose i giovani anime d'oro i giusti anime di pece i peccatori ma anime solo anime e sorrido alle anime candide perché mi sembra di sorridere agli angeli e mi riposo fra i fiori rose e azzurri degli adolescenti buoni e mi rallegro delle anime preziose dei giusti e mi affatico soffrendo per fare preziose e splendide le anime dei peccatori i volti i corpi nulla io vi conosco e riconosco per le vostre anime qui amici sarebbe da stare a commentare qualche secolo l'anima di cui oggi si parla tanto poco noi sacerdoti e la chiesa stessa ha come ragione di essere la salvezza delle anime e basta la gloria di Dio anche ma la salvezza delle anime è una delle cose che maggiormente dà gloria a Dio l'anima la grande dimenticata del nostro tempo la cosa più importante che abbiamo la scintilla uscita dal pensiero e dalla volontà stessa di Dio il nostro essere profondo quella che non può morire quella che è nel nostro corpo ed è presente in ciascuna parte del nostro corpo con la totalità della sua essenza ma non con la totalità delle sue funzioni quella che vive se stiamo lontani dal peccato muore se pecchiamo quella che ci sarà data in custodia noi siamo gli amministratori della nostra anima la parabola delle mine l'unica mina che viene data a tutti quanti è l'anima e l'anima ci sarà data non perché noi la facciamo diventare pece ma perché la facciamo diventare d'oro come giusti e questo si fa utilizzando bene la volontà che in questo è aiutato dal buon utilizzo dell'intelletto e della memoria a volte spirituali e questo non si può fare se non si prega molto se non si usa nei sacramenti tutti e bene se non si fa una vita di stacco e di penitenza da ciò che è mondo da ciò che è carne da ciò che è tentazione crediamo ci sarebbero molte altre cose da dire ma andiamo avanti e lei che anima è? chiede Tommaso risposta di Gesù un'anima meno curiosa di quella dei miei amici perché non indaga non chiede va e viene senza parole senza sguardo bella stoccatina salutare data da Gesù la curiosità è peccato soprattutto il farsi gli affari degli altri io la credevo una di malaffare o una lebrosa ma mi sono ricreduto perché maestro se ti dico una cosa non mi rimproveri chiedere Iscariota andandosi a mettersi seduto per terra contro le ginocchia di Gesù tutto diverso umile buono fin più bello in questa sua area di messa di quanto non sia quando è il pomposo e borioso Giuda non ti rimprovererò parla io so dove abita l'ho seguito una sera fingendo di uscire a prendere acqua perché mi sono accorto che a bui viene sempre al pozzo una mattina ho trovato per terra una forcina d'argento era proprio sull'orlo del pozzo e ho capito che l'aveva perduta lei ebbene lei sta in una capannella di legno che nel bosco forse serve contadini è però mezzo marcita e lei le ha messo sopra delle frasche a fare da tetto forse quella fascina la vuole per quello è una tana non so come ci possa stare basterebbe appena ad un grosso cane o un minuscolo asinello era una sera di luna e ho visto bene è mezza sepolta tra i loro ma dentro è vuota e non c'è porta è per quello che mi sono ricreduto e ho capito che non è una donna di malaffare non lo dovevi fare dice Gesù ma sei sincero non hai fatto di più? no maestro avrei voluto vederla perché è da Gerico che la noto e mi pare di conoscere nel passo così lieve con cui va veloce dove vuole anche la sua persona deve essere flessuosa e bella sì lo si capisce nonostante tutte quelle vesti ma non ho osato spiarla mentre si coricava sulla terra forse si è levata il vero ma l'ho rispettata Gesù lo guarda fisso fisso e poi dice e ne hai sofferto ma hai detto il vero ed io ti dico che sono contento di te un'altra volta ti costerà meno ancora essere buono tutto sta a fare il primo passo bravo Giuda e lo carezza rientra Pietro ma maestro quella donna è pazza ma sai dove sta quasi arriva al fiume in un casuttino di regno sotto un macchione forse un tempo serviva qualche pescatore pescatore boscaiolo chissà mai avrei pensato che in quel luogo umido sprofondato in un fosso sotto un groviglio di romi ci fosse una povera donna e glielo ha detto parla e si sincera sei lebrosa mi ha risposto in un soffio no giuralo ho detto e lei lo giuro guarda che se lo sei non lo dici e viene vicino alla casa e io vengo a sapere che sei in mondo ti faccio la vitale ma se sei perseguitata e sei ladro assassino e sei qui per paura di noi non temere alcun male ma ora esci di lì non vedi che sei nell'acqua hai fame hai freddo tremi sono vecchio lo vedi non ti faccio la corte vecchio e onesto perciò ascoltami ho detto così ma non ha voluto venire la troveremo morta perché è proprio nell'acqua Gesù è pensoso guarda i dodici volti che lo guardano poi dice poi dice che dite che si faccia ma maestro decide tu no voglio che giudichiate voi è una cosa in cui è in causa anche la stima di voi ed io non devo fare violenza sul vostro diritto di tutelarla il nome della misericordia io dico che non si può lasciarla là dice Simone e Bartolomeo direi per oggi di metterla nello stanzone ci vanno pure i pellegrini ci può andare alle pure è una creatura come tutte le altre infine commenta Andrea e poi oggi non viene nessuno e perciò osservo Matteo proporrei di ospitarla per oggi e domani dirlo al fattore è un buon uomo dice Giuda Taddeo hai ragione bravo e ha tante stalle anche vuote una stalla è sempre una reggia rispetto a quel banchetto affondato esclama Pietro voglio la dire allora incita Tommaso i giovani non hanno ancora parlato dice Gesù per me va bene quel che tu fai dice il cugino Giacomo e l'altro Giacomo con il fratello ha una voce e noi pure io penso solo al male augurato caso che capi di qualche fariseo dice Filippo o anche se andassimo nelle nuvole e credi che non ci manderebbero accuse non accusano Dio perché è lontano ma se potessero averlo vicino come lo ebbero Abramo, Giacobbe e Mosè gli farebbero l'improveri chi senza colpe per loro dice Giuda di Keriot allora andate a dirle di ricoverarsi nello stanzone va tu Pietro con Simone e Bartolomeo siete anziani e farete meno soggezione alla donna e ditele che le daremo cibo caldo e una veste asciutta è quella che lascia di sacco vedete che tutto serve anche una veste da donna data a un uomo i giovani ridono perché sulla veste in parola ci deve essere stato qualche buffo retroscena i tre anziani vanno e tornano dopo un poco ce ne ha voluto ma ha finito a venire le abbiamo giurato che non la disturberemo mai ora le porto della paglia e la veste dammi le verdure e un pane non ho neppure da mangiare oggi infatti chi va in giro con questo diluvio il buon Pietro parte con i suoi tesori e ora tutti un ordine per nessuna ragione si va allo stanzone domani provvederemo abituatevi a fare il bene per il bene senza curiosità e desideri di avere da esso una distrazione o altro vedete vi rammaricate che oggi non si sarebbe fatto nulla di utile abbiamo amato il prossimo e che di più grande potevamo fare se e lo è certo costeva un infelice non può il nostro aiuto darle un ristoro un calore una protezione ben più profonda del poco cibo della misera veste del tetto solito che le abbiamo dato se è una colpevole una peccatrice una creatura che cerca Dio il nostro amore non sarà la più bella lezione la più potente parola la più netta indicazione per metterla sulla strada di Dio Pietro entra piano piano e ascolta il maestro vedete amici molti maestri a Israele parlano parlano ma le anime restano quali sono perché? perché le anime odono le parole dei maestri ma vedono anche le loro azioni e queste distruggono quelle e le anime restano dove erano seppure non retrocedono ma quando un maestro fa ciò che dice e agisce da santo in ogni sua azione anche se fa solo delle azioni materiali come quella di dare un pane una veste un alloggio alla carne sofferente del prossimo ottiene che le anime procedano e giungano a Dio perché sono le sue stesse azioni che dicono fratelli Dio è qui e qui è Dio oh l'amore in verità vi dico che chi ama salva se stesso e gli altri dici bene maestro quella donna mi ha detto sia benedetto il salvatore colui che l'ha mandato e tutti voi con lui e a me povero uomo mi ha voluto baciare i piedi e piangeva dietro il suo fitto velo ma ora speriamo che non arrivi qualche nottolone da Gerusalemme se no e chi ci salva la nostra coscienza ci salva dal giudizio del padre nostro basta così dice Gesù e si siede a tavola dopo aver benedetto e offerto il cibo tutto a fine allora ecco a quasi fine anche questa nostra puntata qualche piccola parola di commento è doverosa però in quest'ultimo scorcio di lettura io partirei subito da una cosa fondamentale la nostra coscienza ci salva dal giudizio del padre nostro grandissimo insegnamento di Gesù a termine di questo ci sono delle azioni che potrebbero essere equivocate dai maligni ora vedete come hanno agito no? guardate Gesù non decide lui o è è Dio fa parlare tutti perché sa che si potrebbero in generale chiacchiere che andrebbero a infamare la loro reputazione e quindi vuole il consenso per questa cosa guardate come è importante e non fa nulla fino a quando non gli hanno dato il consenso dopodiché ci sono anche le norme della prudenza umana va nello stanzone quindi una zona separata e Gesù ordina non entri nessuno quindi proprio perché si sapeva essere circondato da da iene e punto primo non si deve fare nulla di male punto secondo non si devono dare degli appigli purtroppo a chi non soltanto non è che parla questo non è vivere in funzione degli altri ma la maldicenza caluniosa e oltragiosa e gratuita ostacola il lavoro apostolico purtroppo e può essere causa di rovina per qualche anima nostro signore chiaramente l'anima è venuta a salvarle non a concorrere alla loro rovina e quindi pur sapendo che quelli sono una banda di iene quindi che nulla le avrebbe fermate però però toglie i pretesti oggettivi che potrebbero alimentare la loro cattivella tanto parlano lo stesso però attenzione con il parlano lo stesso noi non dobbiamo trincerarci dietro per come dire indulgere ad atteggiamenti sconsiderati o imprudenti parlano lo stesso sì ma noi dobbiamo fare in modo che il loro parlare sia ad attribuire solo alla loro cattiveria e malizia senza che abbia un appiglio reale in re come dicono come dicevano i romani cioè sui fatti questo Gesù lo fa e questa è una grande scuola ed è molto importante ultima cosa da notare fa parlare Giuda lo rimprovera per quello che ha fatto ma lo incoraggia per quello che non ha fatto vedete come ha fatto di tutto Gesù per salvarlo no? hai detto il vero e ti dico che sono contento di te un'altra volta ti costerà di meno essere buono tutto sta a fare il primo passo bravo Giuda il problema ripeto è che Giuda aveva questi rientri in sé Maria Valtorta stessa dice si riconosce più diventato unghie dimesso ma come sempre duravano poco non c'era alla base una volontà risoluta la volontà di Santa Teresa Davila chiudiamo con un omaggio oggi alla festa di Santa Teresa della Croce diceva che per fare un cammino autentico di conversione e santificazione ci vogliono due cose primo la volontà ferma e risoluta una volontà ferma e risoluta secondo costanza e perseveranza si inizia il cammino si inizia a percorrere una strada non mi fermo fino a quando non raggiungo l'obiettivo ci sono queste due cose tutto il resto possiamo confidare che la grazia di Dio ci riterà a farlo bene tutto ma se queste due cose mancano sono tutti fuovi di paglia e non si produce nessun cambiamento vero e reale nelle nostre anime Dio vi benedica tutti e la Santa Vergine sempre vi protegga laudendo di Iesus et Maria grazie a tutti